Il capo di qua, mia figlia all'arcomirello proprio vicino come si sa e quando cammino la coppa si sento dun 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 Poi mia figlia abitava all'arcomirello e stamattina fuori dal barco non stava stendendo i panni e ha visto tutto che cadeva In un palazzo hanno soppuntato, poi hanno cominciato il lavoro e poi stamattina si è caduto tutto Hai capito? Qua stanno i rumori da tutte le parti, i puri hanno i rumori in coppa perché entro la dorsa sento tutto Quando io qua, tre anni fa, il capo non si è caduto il condotto, il cornicione, qua, quando scendì che ha buttato la spazzatura Trasera la porta, andando ai piedi mi venivano sette, otto pizze preta, non mi chiaccare l'ospedale per non mirare, qua E che si sa? Si sa che non controllano, vanno trovando la morte di gente che non controllano e non fanno niente Questo sa che noi qua siamo nati, io abitavo qua dietro 50 anni, io che abitavo, abbiamo paura, paura e rumore e mi ha detto il cornicione L'opera pia, ma anche qua la capa, si è fatto passare, e qua stiamo sempre, e a forza qua stiamo, o a me Ma voi abitate in un posto bello però? Un posto bello, qui ci facciamo bello, maniamo bello Vicino al mare? Al mare, si, abitiamo bello però noi qua siamo nati, siamo venuti nel paese, siamo venuti a Pasciporta, siamo nati, io abito 50 anni qua dietro Mi chiamo Maria Apoi, sì! Grazie a tutti.